Ciao a tutti ragazzi, io sono Antonio, benvenuti nel mio garage e oggi parliamo di un argomento molto caro a parecchie persone caro perché è un accessorio che di solito ha un costo non basso e caro perché parliamo di stagione invernale e quindi quale cosa migliore di montare le manopole riscaldate prese su Amazon a 25-26 euro, poi vi metto il link in descrizione sembrano per adesso dalle prove che ho fatto a banco funzionare molto bene ho visto che con il termometro laser arrivano più o meno ai 90 gradi nella temperatura massima non sembra riscaldare l'elettronica di comando che c'è collegata alle manopole l'aspetto estetico anche mi piace, ha l'interruttore che si comanda direttamente dalla manopola quindi non ha centraline in giro per lo scooter tipo le Oxford e manda alle ciance, andiamo subito a vederle queste sono le manopole, questa è quella dell'acceleratore questa è quella di sinistra con il comando d'accensione allora io l'ho provato a banco con un termometro infarossi ho visto che alla massima temperatura sfioravano i 90 gradi in casa quindi all'esterno con temperature basse secondo me si arrivano tranquillamente ai 70 gradi che col guando invernale, quindi grosso, dovrebbe riuscire a dare veramente un ottimo comfort poi la cosa buona è che è compatibile con il 90% delle moto praticamente si prende la giusta angolazione per il cavo perché comunque dovrà fare un movimento in più per avere il giusto gioco laterale tra i comandi diciamo tra i comandi della moto d'accensione e il pesetto laterale destro si può inserire più o meno all'interno o all'esterno questa ghiera e bloccarlo nell'istruzione dicono con della collazione acrilica quindi dell'attac che servirà giusto a evitare che possa slittare allora innanzitutto per poter sfilare la manopola dell'acceleratore nel caso in cui come me la manopola è proprio completamente da sostituire quindi compreso la ghiera che porta i cavi dell'acceleratore bisogna vediamo se riesco da qua andare a questo registro allentare il controdato di bloccaggio allentarlo tutto vediamo se riesco troppo sono da solo ecco qua questo lo allentate e poi con una chiave da 10 svitate questo svitando questo fate sì che queste due parti si avvicinano allungando il cavo dell'acceleratore quindi vi risulterà poi più semplice in pratica allenta questo qua e quindi vi sarà più semplice andare poi a svincolare i cavi d'acciaio ecco qua ragazzi una volta svincolati le due teste dei cavi togliete la manopola dell'acceleratore e date una bella pulita e una lubrificata con del VD40 un olio che non rimanga grasso pulite bene le due teste dei cavi dopodiché andiamo a inserire la manopola riscaldata vi volevo far vedere la Honda i cavi di apertura e chiusura sono d'acciaio ma rivestiti in teflon uno spettacolo perché scorrono bene e non si usurano ottimo allora una cosa importante che non vi ho detto è che Honda vuole del grasso dove vanno le teste dei cavi perché il rivestimento è in teflon ma la testa essendo ingrassata ruota all'interno del foro liberamente magari non eccedete troppo col grasso io l'avevo messo inizialmente sulle piste anche poi ho visto che la manopola originale le piste non le ha e il cavo era asciutto quindi ho ripulito le piste e il cavo anche giusto per rispettare l'originale e poi andremo a lavorare su questo registro in modo da tendere il cavo e non avere questo gioco il movimento del registro vediamo se riesco a farlo vedere il registro e questo in pratica che cosa fate? questo vale anche per quando lo dovete allentare questo bullone gira liberamente e allontana o avvicina questa parte ok? questa è una parte con una barra flettata fammi allontanare questo ok avvicinandosi il cavo si allenta e potete togliere la manopola allontanandosi il cavo si tende quando avete trovato la giusta tensione bloccando tenendo fermo questo con la chiave andate ad avvicinargli questo dandogli una buona stretta non troppo forte questo eviterà che possa perdere la regolazione quindi per poterlo allentare bisogna girare verso il basso quindi avvitate questo verso questo questo non potendosi muovere si muoverà questo per poterlo invece tendere il cavo girerete in senso opposto come se lo vorrete svitare facendo in questo modo lui dal bullone non potrà allontanarsi ma allontanerà il cavo facendo in questo modo fate sempre un controllo quando vedete che c'è un minimo di gioco perché un minimo ci deve essere ma come l'originale in pratica prima di smontarlo fate caso a come è il gioco dovrebbe essere di 1 o 2 mm e una volta che avete trovato la regolazione giusta bloccate il controdato allora ragazzi mi sto trovando nella difficoltà di fissare questa staffa d'acciaio che praticamente dalle istruzioni essendo universale giustamente fa vedere di metterlo sulla vite che mantiene il blocchetto del freno farlo andare in avanti e fissaggi il cavo che passa dall'acceleratore sotto in questo modo ora col forza non si riesce a fare perché il bullone che mantiene il blocchetto è questo ma ha troppa roba davanti e quindi arriverebbe a metà e non riuscirebbe nemmeno ad uscire perché ha questi cavi davanti quindi cosa farò accorcerò questa staffa dove c'è questo punto farò un foro da 6 e lo fisserò qui sotto il il perno che mantiene la leva freno bloccato col suo dado facendo in questo modo la posizione è quella indicata dal manuale ed è bello fisso ecco fatto ragazzi staffa accorciata bloccata col bullone che vi dicevo della leva freno e poi la cosa buona che ha questa manopola è questa protezione attorno a cavo che la fa fissare qua e la fa scorrere in avanti indietro in base alla misura che ci serve e io la manopola l'ho fissata così in modo che il cavo non venga mai tirato e non subisca mai strozzature quindi adesso chiudo tutto e controllo che col pesetto non dia fastidio qui sulla gomma e poi passiamo all'altra che secondo me è un po' più rognosa io pensavo che era questa quella rognosa ma secondo me è quella perché la manopola lì è incollata quindi triboleremo un po' a dopo ragazzi questa è la manopola passeggero che avevo prima per chi se lo chiedesse in pratica io avevo messo questi fogli riscaldanti che sono delle resistenze coperte da plastica così avvolto attorno alla manopola gli ho messo una guaina termorestringente a protezione della gomma della manopola perché pure questi diventano poco caldi poi con del nastro isolante l'ho tenuti fermi nella posizione e sopra ci ho comprato sempre una guaina termorestringente di quelle da tennis per intenderci bella spessa messe su riscaldate e l'hanno avvolta e questo anche funzionava abbastanza bene per chi magari non vuole fare tutto questo sbattimento può anche prendere solo queste poi vi linko sia queste manopole che queste questo è il suo interruttore uno zero o due in realtà uno non funzionava cioè non si riscaldavano quindi era o spento o al massimo e al massimo vi dico che ho dovuto comprare queste manopole neoprene perché il caldo che emettevano era era proprio forte quindi quei guanti invernali siamo sempre lì con i guanti invernali andava bene col guantino estivo magari rientro la sera che la temperatura era bassa e lo volevo accendere era un po' troppo forte quindi io ho messo quell'inoprene con questi qua problemi non ce ne sono perché il calore io me lo regolo quindi se è troppo caldo lo abbasso ragazzi qua come vi dicevo c'è da tribolare perché la manopola è incollata allora onda nel manuale ufficiale per montare le manopole riscaldate parla di utilizzare alcol isopropilico perché la proprietà di questo alcol è quello di sciogliere la colla il mastice e quindi onda consiglia l'uso di questo alcol per non rovinare la manopola che si va a togliere ma piano piano sciogliere la colla che c'è dentro quindi ho infilato molto delicatamente questo cacciavite sottile in modo da avere spazio per infilargli la cannuccia e sto facendo questo ci vorrà del tempo però non mi va di tagliare la manopola originale e quindi la toglierò con calma bene ragazzi con molta difficoltà e tanto alcol alla fine ci sono riuscito sono riuscito a recuperare la manopola alla fine di collante non ce n'era moltissimo però c'era in alcuni punti tipo al centro all'inizio e forse molto stava qui alla fine eccoci qua diamo solo un'occhiata al diametro per vedere se corrisponde corrisponde perché la descrizione parlava di 22 mm però ok sembrava da bene allora ragazzi mi è venuto un dubbio ho voluto aprire la la pulsantiera della manopola per vedere come erano messi i contatti se erano stagni se c'era rischio di infiltrazione di acqua se poteva fare danni più che altro entrando l'acqua e ho visto che qui mi dispiace non aver fatto il video c'erano i fili scoperti si vedevano i fili che entravano poi nella plastica andavano qui sotto i contatti e in più i contatti sono tutti sporchi quindi che ho fatto avevo del sigillante acrilico che è un silicone abbastanza pastoso non troppo liquido e ho coperto la parte dei fili controllato che il silicone non andasse a intaccare ecco qua non dà fastidio perché la plastica finisce dove inizia il silicone e niente quindi magari non sarebbe mai successo nulla perché comunque quella è la parte bassa però non si può mai sapere io gli ho messo del silicone male non fa non dà problemi al movimento del selettore ora con un cotton fioc e dell'alcol andrò a pulire i contatti da questo grasso che ci ha messo in realtà è anche poco secondo me e andrò a mettere del grasso di vasellina che non corro della plastica non dà problemi per i contatti anzi è anche consigliato perché viene utilizzato per i poli delle batterie per intenderci per non farli ossidare comunque conducono bene e il grasso di vasellina essendo grasso evita l'infiltrazione di acqua diciamo dovrebbe fare una barriera di sicuro meglio della situazione in cui mi sono trovato adesso l'unica cosa fate attenzione quando togliete il coperchio che sotto al coperchio ci sono queste tre biglie con sotto una molla che praticamente vanno a fare gli scatti quando muovete il selettore in questi fori quindi date un occhio soltanto a questo quando togliete le viti che sono delle semplicissime torx da cellulare io ho questo set di cacciaviti che utilizzo per smontare le vitine piccole e mi sono trovato bene allora ragazzi ho utilizzato perché le piste qui di rame le ho pulite io pensavo che era grasso sporco invece in realtà erano molto ossidate quindi ho utilizzato del disossidante per saldatura quindi la pasta che viene utilizzata per saldare in maniera più semplice su rame ottone a stagno ovviamente e l'ho strofinato un po' col cotonfioc ci ho fatto un bel po' di passate adesso che l'ossido è andato via andiamo se riesco a mettere a fuoco ecco qua adesso l'ossido è andato via procedo alla lucidatura andrebbe già bene però preferisco avere una base di partenza ottimale e utilizzerò del sidol che praticamente è un leva è un lucidante per metalli molto molto sidol questo è il risultato finale il rame è lucidissimo quindi i contatti adesso sono più che puliti ci metteremo il grasso di vasellina tecnica eccolo qua lubrificante protettiva in colore inerte ed ecologico quindi terra i contatti lontani dall'acqua non si ossideranno eviterà l'acqua per quanto possibile di entrare o perlomeno di rimanere ristagnante sui contatti adesso do una piccola pulita anche a questi altri contatti anche se questi sono puliti però una volta che ci troviamo puliamo anche questo metto la vasellina chiudo tutto e andiamo allo scooter allora io come colla utilizzerò la pattex non eccederò né metterla uno per evitare che inserendo la manopola possa infilarsi magari qui nelle parti dei contatti e due perché poi alla fine finirebbe per uscire tutta di qua quindi cerco di metterne giusto sperando che tenga di solito questo comunque è una colla bella è un mastico abbastanza forte non è che faccia chissà che gran lavorone la manopola però evitare che possa poi ruotare che dà fastidio insomma allora manopola messa è entrata io l'ho accesa un po' prima in modo che la gomma diventasse morbida sono dimenticato di dirvelo e ho steso un po' di mastico l'ho spalmato con le dita sulla manopola ed è entrata con lo giusto sforzo ma è riuscita ad entrare bene senza anche perché piegare troppo questa gomma all'interno comunque c'è la resistenza quindi conviene sia non girarla in questo modo per farla entrare né prendere martelli né niente basta semplicemente spingere con una mano qua tirare e con quest'altra spingere senza fargli fare movimenti strani alla gomma così non non c'è il rischio che possa rompere la resistenza all'interno adesso io sistemo tutti i cablaggi e arriviamo alle conclusioni lavoro lavoro concluso ragazzi le manopole si integrano bene scorre bene è bello libero l'acceleratore ha guadagnato leggermente un po' di gioco questo dovuto al fatto che la parte dove vanno i cavi è leggermente più stretta rispetto alla manopola originale quindi ha un po' più di gioco all'interno ma non crea problemi perché è libera ragazzi in conclusione sono manopole che vi consiglio il lavoro pensavo fosse un po' più complicato da fare onestamente invece mettendomi lì un po' di tempo certo ci è voluto un paio di ore per fare il tutto io poi i cablaggi per l'alimentazione me le ero già passate perché avevo le altre manopole riscaldate quei fogli che avevo messo quindi avevo già l'alimentazione messa sotto il manubrio e quello mi ha fatto perdere meno tempo insomma non vi consiglio di attaccarle alla batteria direttamente perché se le dimenticate accese potrebbero potrebbe scaricarsi la batteria quindi vi consiglio di metterle comunque sotto chiave oppure di utilizzare la centralina che utilizzo io che poi vi linko in descrizione di cui parlai già in uno scorso video praticamente questa collegata direttamente alla batteria funziona da interruttore elettronico ha una piccola vite un trimmer con cui si regola la tensione minima a cui deve accendersi e quella a cui deve spegnersi in pratica io ce l'ho settata a 13,8 volts a motore spento la batteria scende a 12 volts più o meno 12 e qualcosa e l'interruttore rimane aperto quindi non mi alimenta nulla appena mette in moto lo scooter quindi non quanto gira il quadro ma quando mette in moto lo scooter dopo 2-3 secondi la tensione sale a 14-14,2 e quindi la centralina mi chiude il circuito e mi fa alimentare i faretti le porte usb e le manopole riscaldate comunque guardate giù nella descrizione perché vi metto sempre i link ai prodotti che avete visto nel video o se non trovo proprio gli stessi prodotti simili che possono andare bene grazie per aver visto questo video spero che sia una cosa gradita soprattutto visto che andiamo incontro all'inverno magari in tanti vorrebbero montarle ma magari si pongono il problema uno del costo e due del montaggio il costo queste mi sembra stanno su Amazon sulle 25-26 euro quindi è abbordabilissimo le Oxford che sono quelle che di solito montano tutti costano un bel po' di più hanno una centralina esterna che secondo me è scomoda da posizionare in giro sullo scooter non mi piaceva come soluzione e in più non ha la manopola intera ma andrebbe tagliata la gomma della manopola originale rivestita con la manopola che esce nel kit e sta cosa a me non piaceva quindi con poca spesa tanta resa poi vedremo nel tempo vi aggiorno eventualmente se vi interessa e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi mi raccomando iscrivetevi e condividete il mio video nel modo più grande possibile facebook su tutti i vostri social mi raccomando ciao a tutti ragazzi ciao a tutti i vostri social